Potrebbero partire presto per l'Egitto i familiari di Davide Baggio e Chiara Tombolato, i due coniugi di Cittadella, coinvolti in un drammatico incidente mentre erano in vacanza ad Urgada nel Mar Rosso. Le condizioni di Chiara Tombolato sono stabili, dovrà subire un'ulteriore operazione prima di poter prevedere per lei un rientro in Italia. I familiari poi dovranno sbrigare anche tutte le pratiche burocratiche per cercare di rimpatriare al più presto, entro almeno dieci giorni, il corpo di Davide Baggio che nell'incidente ha perso la vita. I due coniugi infatti erano a bordo di un'auto guidata da un privato, stavano andando a visitare Luxor, una gita programmata, dovevano essere a bordo di un pulma ma i posti erano esauriti e così avevano noleggiato la vettura. I familiari, chiusi nel dolore a Cittadella, si stanno organizzando per la partenza a breve e hanno già preso contatti con il Consolato e l'Ambasciata Italiana in Egitto.